Tappa salernitana per il cantante degli U2 Bonovox, che ieri sera è atterrato all'aeroporto di Ponte Cagnano per raggiungere la costiera amalfitana per una breve vacanza. Il leader del celebre gruppo irlandese, prima di lasciare l'aerostazione, non si è sottratto ai tanti selfie richiesti dai presenti, mostrando gentilezza e disponibilità. E il secondo atterraggio di grido in pochi giorni per il Costa d'Amalfi, che la scorsa settimana ha accolto il noto cestista dell'NBA, Lebron James.